Ciao bella gente e benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi vi porto un trattamento scusate, un trattamento che va bene per qualsiasi tipo di capelli, sia grassi, secchi, soprattutto danneggiati, fini, sfibrati, un trattamento super 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 fortificante per i capelli, aiuta la crescita dei capelli e fortifica il capello. Questo trattamento io lo sto applicando da all'incirca 3 mesi più o meno, lo faccio una volta, al massimo 2 al mese, consiglio una volta, una volta per le persone che hanno i capelli crespi e i capelli secchi, invece le persone che hanno i capelli normali e grassi ve lo consiglio almeno una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni. Per quanto riguarda le persone che hanno i capelli ricci, questo trattamento, anzi ricci va bene, crespi o secchi, questo trattamento secca tanto i capelli, però li rende molto leggeri e soprattutto fortifica i capelli, aumenta il volume, per chi vuole i capelli super voluminosi questo trattamento è meraviglioso, semplicissimo da fare, veloce ma molto efficace, soprattutto quando lavate i capelli, sentite proprio i capelli molto leggeri, io con questo trattamento di oggi ci ho messo un sacco di idratazioni perché so che mi secca i capelli, lo idratate tantissimo e fidatevi, i capelli sono molto leggeri e anche la sensazione che avete è molto, guardate, non hanno forma, non ha niente, super 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 leggeri, bella gente, se vi piace mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina e seguitemi su Instagram e Facebook, vi lascio al video. Eccoci bella gente, cominciamo con il nostro trattamento, anzi con la preparazione, prendete dell'acqua, ci mettete qualche chiodo di garofano e del rosmarino, se non avete questi ingredienti a casa potete utilizzare solamente l'acqua, io l'ho fatta bollire e l'ho fatta un po' raffreddare, infatti erano leggermente tipidi. Ho preso questa ciotolina, quella che uso sempre, però credo che questa volta ho i capelli molto voluminosi, ho aggiunto un altro un po' di acqua, aggiungo una buona abbondanza e abbondante quantità di aceto di mela, come vedete, perché è la base di questo trattamento e adesso andiamo a fogare, deve essere proprio un bagno, dovete lasciare a riposo i capelli, io l'ho lasciato per all'incirca 10 minuti. Dunque, perché è il rosmarino e il garofano? Il rosmarino e il garofano sono due ingredienti basilare per aumentare la crescita dei capelli, quindi aiuta tantissimo a aumentare i nostri capelli o aumentare la crescita dei nostri capelli. Nei video precedenti che vi lascio qua sopra, io avevo preparato un siero a base di chiodi di garofano con gel di semi di lino, che ce l'ho nel congelatore che ogni tanto li scongelo, che preparo per aiutare la crescita dei miei capelli. Come vedete la ciotola è piccola, però la più grande che ho a casa come ciotola di cristallo e vi lascio a riposo il tempo che potete, minimo mezz'ora, il massimo, io l'ho lasciata un'oretta e mezza. Ho lavato i capelli e adesso vado a mettere Cantù, la maschera più intensa che ho, anche se questa maschera non si risciacqua, però io lo vado a risciacquare dopo. Se avete qualsiasi tipo di maschera, potete utilizzare qualsiasi maschera fatta in casa, vi lascio qua su il link delle maschere fatte in casa per idratare i capelli ricci. Oggi non avevo tanto tempo, quindi ho deciso di usare questa che è abbastanza 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 idratante. La lascio a riposo per mezz'ora e vado a lavarmi i capelli. Adesso ho lavato i capelli e adesso vado a mettere il Crazy Color per mantenere i miei capelli rossi. Il Crazy Color è un colorante, una crema colorata per i capelli in generale, ma veramente dura tanto, ha un buonissimo effetto, costa io l'ho pagata 4,95 euro. Adesso questa volta invece vado a solamente pettinare i capelli, il styling questa volta è così. Se volete vedere il styling dei capelli ricci, rullati, definiti, se avete qualche vento o qualcosa, vi lascio il link del video qua sopra, che potrebbe esservi utile. Comunque anche così è il risultato assicurato. Io questa tecnica l'ho usata da sempre, usavo il pettine rotondo per farli in questo modo qua e sempre mi ha dato un ottimo risultato, ma ultimamente sto cercando di rullare i capelli perché da una parte dà il risultato dei capelli ricci definiti, dall'altra parte mantiene idratati i capelli e soprattutto aiuta che il prodotto che li mettiamo penetra abbastanza bene. Comunque il siero che vedete è un siero che aiuta a mantenere i capelli ricci, vi lascio il link anche di questo video qua, per chi non l'ha visto. Guardate che bei ricci che fanno, molto belli. Adesso li vado ad asciugare al naturale. Ecco mi sono tornata dalla passeggiata con Kali, scusate la voce, e vado a dare volume ai capelli. Sono molto belle, ma soprattutto la sensazione del leggero che sentite sui capelli, anche se ha ho messo abbastanza idratazione. Andiamo a darle volume. Questa tecnica l'ho scoperta qualche anno fa per separare i ricci, li separa e dà volume ai capelli. Questo pettino qua, o separatore come lo chiamo io, costa solo 1,50 euro e ne vale 1 centesimo. Eccoci, alzo un po', eccoci. E non sono del tutto asciutti. Per avere i capelli più voluminosi, sempre il giorno dopo diventano voluminosi, oppure dovrei passarli col forno, sapendo che adesso sto andando a lavorare e sinceramente non mi va di spararmi del forno in questo momento, li lascio tutto il tempo per asciugarsi. Se ho una serata un po' particolare e voglio proprio l'effetto voluminoso, allora in questo momento sì che vado ad applicare, asciugarli col forno il diffusore. Come vedete, sono veramente molto belli. Anche con la tecnica, oggi ho usato la mia tecnica, quella che ho usato da sempre, solamente col pettine, tirandolo, senza farli in arrullini, niente. È il risultato molto bello. Per vedere come faccio a farle l'effetto proprio buccoloso, fine, potete guardare questo video che vi lascio qua sopra. Scusate la voce, però l'aria condizionata mi sta massacrando. Comunque, questo qua è il risultato. Ripeto, vi lascerò la foto su Instagram, essendo ricordo. Bella gente, se vi piace questo video mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Ciao a tutti e alla prossima e buona domenica a tutti!